Se si desidera impostare un lettore con un riflesso in ePassan Manager, iniziare facendo clic sull'icona della procedura guidata della vista. Selezionare quindi l'opzione Caratteristiche dall'alto e fare clic accanto alla funzione Riflessi dell'utente. A questo punto, fare clic su Apparecchiature e Impostazioni e salvare prima di continuare. Fare clic su Lettori e selezionare il lettore che si desidera modificare. Fare quindi clic sul simbolo di modifica accanto a Profilo lettore. Fare clic su Aggiungi un comportamento personalizzato e definire il comportamento del lettore utilizzando le opzioni disponibili. In questo esempio, il comportamento personalizzato del lettore è definito da ciò che accade quando si preme l'interruttore di uscita. Una volta terminato, fare clic su Salva. Selezionare ora i riflessi e fare clic su Aggiungi un riflesso. Scegliere il tipo di riflesso e l'elemento per la porta. Quindi, scegliere il lettore e il comportamento personalizzato del lettore. Infine, fare clic su Salva. Grazie. Grazie.